Book City è la festa del libro della città di Milano, 1320 dislocati in ogni angolo della città per celebrare la forza della lettura. Tante presentazioni di libri italiani e internazionali, tra più attesi Luis Sepulveda, lo scrittore cileno da 8 milioni di copie. Il suo ultimo libro è storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, che affronta il fascino di un animale leggendario, protagonista di una storia che parla di temi universali come l'amicizia e il rispetto per la natura. Milano si anima in ogni angolo, dal castello sforzesco simbolo della manifestazione agli eventi in giro per la città, dalle librerie ai palazzi. Tante parole e incontri, ma un grande tema, la forza della lettura. Questo viaggio è dedicato alla 90-91. Il tour letterario sulla storica 90, il filobus che trasportava storicamente i lavoratori per il perimetro della città e che oggi nella sua versione contemporanea è il simbolo del multiculturalismo, di una metropoli che non smette di evolversi. E da Book City è tutto, arrivederci al prossimo festival!